Intitolare i viali principali del cimitero San Cataldese ricordando donne, uomini e personaggi illustri di San Cataldo e utilizzare una numerazione progressiva per quelli secondari. E questa è la proposta della terza commissione consigliare San Cataldese, guidata dal presidente Vincenzo Naro e composta dal vicepresidente Massimo Emma, il segretario Adriano Bella, i consiglieri Maurizio Lombardo e Rosario Aprile. Con la mozione la commissione propone inoltre di dare atto che l'attribuzione di nuove denominazioni sarà resa operativa, si legge a seguito di autorizzazione del prefetto e poi ancora si fa riferimento alla ricostituzione della commissione comunale toponomastica e ai servizi lavori pubblici e servizi cimiteriali. Per tutto quanto necessario scrivono, per la posizione materiale della toponomastica in argomento e per eventuali nuove intitolazioni sulla base del criterio stabilito nel presente atto. La toponomastica del cimitero, ampliata ulteriormente negli ultimi anni, è una questione trattata già nel 2018. Il scopo principale della nostra iniziativa è quello di riprendere una deliberazione del 2018 e completarne l'iter intrapreso dalla precedente amministrazione sull'intitolazione delle vie del cimitero. L'obiettivo principale ovviamente è quello di rendere più fruibile il cimitero comunale, specialmente a chi lo frequenta meno, per l'individuazione dei loculi, dei propri cari. Questo serve anche ad accendere i rettori sul cimitero comunale per continuare il percorso di individuazione di tutte le criticità e cercare di risolvere le problematiche sia strutturali che di disponibilità dei loculi. Questo percorso della terza commissione si è imposta di intraprendere già dall'inizio dell'izzediamento. Speriamo in questi anni di poter rendere il cimitero più fruibile e soprattutto migliorarne, oltre all'aspetto del decoro, anche la disponibilità dei loculi.